Gentili telespettatori, buona giornata. Bassetti, l'infettivologo genovese, dice che 60.000 contagi al giorno non vogliono dire assolutamente nulla. Beh, questo è quello che abbiamo detto sempre qui su questo canale. Il numero di contagi in realtà non indica nulla, è un dato decontestualizzato. 60.000 contagi non importa che siano 2.000, 60.000, 120.000, un milione. Quello che conta è il numero delle ospedalizzazioni, quante persone ci sono in terapia intensiva e nei reparti ordinari Covid. Pertanto non è assolutamente allarmante parlare di 60.000 contagi anche perché non si stanno facendo neanche quasi più tamponi. Questa è la realtà perché i tamponi non servono assolutamente più a nulla, se non una curiosità personale per sapere se uno si è preso questo virus. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.